Benvenuti su Gossip Mania TV. Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi svelano il tutto a Verissimo, la magia è sparita. Prima di proseguire, se vuoi rimanere aggiornato sulle ultime novità, ti chiediamo gentilmente di iscriverti al canale ed attivare la campanellina. Nessun futuro sembra essere in serbo per la coppia composta da Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi al di fuori delle mura della casa del Grande Fratello. Questa conclusione è stata chiaramente affermata dall'attrice stessa durante la sua partecipazione alla puntata di Verissimo trasmessa domenica 31 marzo. Durante l'ultima parte dell'intervista condotta da Silvia Toffanin, è stato affrontato il tema della relazione tra Beatrice e Giuseppe, con quest'ultimo che è stato invitato in studio. Giuseppe Garibaldi aveva precedentemente espresso la volontà di riallacciare e proseguire la loro relazione una volta usciti dal reality, affermazione fatta proprio nello stesso studio la settimana precedente. Tuttavia, nonostante i recenti rumors che suggerivano un eventuale riavvicinamento dei due in segreto, Beatrice Luzzi ha spezzato le speranze di Giuseppe e dei fan della coppia. L'atteggiamento di Beatrice nei confronti della sorpresa di Giuseppe è sembrato piuttosto freddo fin dall'inizio, e ha cercato di spiegare vagamente cosa li allontani, c'è una discrepanza di visione delle cose, degli eventi, che ci divide, e finché non troviamo un terreno comune, io non me la sento di ricominciare questa cosa. Credo che gli ci vorrà molto tempo. Nel frattempo, io continuerò la mia vita. Di fronte a questa risposta enigmatica, che ha lasciato anche Giuseppe interdetto mentre cercava di esprimere le sue responsabilità, è stata Silvia Toffanina a intervenire con una domanda diretta, ma ci può essere ancora amore? La risposta di Beatrice ha chiarito ogni dubbio, purtroppo, abbiamo distrutto quella magia iniziale. Devo ammettere che anche io ho sbagliato, sono stata imprudente. Dovevo aspettare di più, dovevamo conoscerci meglio. Ho agito troppo in fretta, trattandolo come se avesse condiviso la mia stessa vita, mentre la sua era completamente diversa. È un punto fermo. Quindi è un punto interrogativo o un punto, ha insistito Silvia Toffanina. È un punto, ha risposto Beatrice. Ci troveremmo in una serie di problemi ogni giorno. Sarebbe molto difficile per entrambi. Con questa affermazione si conclude uno dei flirt più seguiti e discussi di questa edizione del Grande Fratello. Durante l'intervista Verissimo, Beatrice Luzzi ha anche rivelato che la sua più grande delusione per non aver vinto il reality riguarda il fatto che sapeva quanto fosse importante per i suoi figli. Tuttavia, non ha provato rabbia, poiché si è resa conto che non avrebbe vinto comunque. Aggiunge, se avessi vinto, la mia partecipazione al reality avrebbe avuto più senso per me stessa. Lascia un commento alla fine del video e seguici per gli aggiornamenti. Grazie per essere stati con noi. A presto con un nuovo video. Ci vediamo al prossimo Gossip.